Un altro esempio di principio di inerzia può essere quello delle navicelle spaziali, le sonde Voyager e Pioneer che furono inviate negli anni 70 dalla NASA verso i confini del Sistema Solare. Oggi hanno superato quei confini e quindi si trovano nello spazio interstellare. In pratica stanno in una regione di spazio dove non risentono di alcuna forza. Quindi possiamo, con ottima approssimazione, ritenere che la forza totale su una di queste sonde sia zero. Queste sonde quindi procedono a velocità costante, con la velocità che avevano acquisito fino a quel momento.